La Polizia Municipale ha reso noti i risultati finora raggiunti nella propria attività di controllo del territorio. Ma non riguardano solo infrazione al codice della strada. Il dato più rilevante è riferito agli accertamenti in fatto di edilizia. 33 cantieri visitati in 11 casi sono state rilevate in regolarità. Tra questi, infatti, ben 6 riguardano la collocazione, perché si trovano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e uno in zona di inedificabilità assoluta. Due gli immobili sottoposti a sequestro. Uno di questi incontra da Maddalusa, dove è stato scoperto un immobile abusivo a tre elevazioni di circa 170 metri quadri e, sullo stesso sito e in un momento successivo, una squadra di operai intenti a continuare le opere violando i sigilli apposti dall'autorità. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo sono quindi stati effettuati 11 accertamenti edilizi nel centro storico. 23 accertamenti di immobili sempre nel centro storico per pubblica incolumità sono state sgomberate 16 persone e altre 14 sono state denunciate per violazione della legge urbanistica. In quanto alle infrazioni al codice della strada c'è da rilevare che o mancano davvero i parcheggi o gli agrigentini non sono in grado di far sostare l'auto dove si deve. Ben 1.850 sono infatti al 31 marzo i verbali elevati per sosta in zona di scorario, sosta in doppia fila, nello spazio riservato agli invalidi o ad altre categorie di utenti, sosta sui marciapiedi e sosta sugli attraversamenti pedonali. Per finire 22 gli incidenti senza feriti e 12 conferiti.